... Bene, siamo pronti per questa prima batteria dei maschietti ... Partezza regolare, partezza regolare, subito E andiamo, ci tuffiamo per vivere questo finale Con la squadra numero 57 Il Bellusco che chiude in prima posizione col tempo di 33,83 Partezza regolare per questa seconda batteria E andiamo Siamo a metà gara Cambi, cambi, probabilmente fase di finalizzazione Per andare a tuffarsi verso il rettilineo finale Che va a chiudere questa seconda batteria Con la squadra numero 58 Il Bellusco che chiude in prima posizione Comporta la maniera è andata anche questa partenza per la terza batteria vediamo un po' gli atleti che stanno impostando la prima parte di gara per poi portarsi a fare il cambio a metà gara e tuffarsi sul rettilineo finale cambio effettuato, i ragazzi stanno risalendo la piccola falsa salita che c'è sul lato destro dell'impianto per poi salire verso il rettilineo che si chiude con la squadra di Cantù che chiude col tempo di 30 minuti